Cerchiamo di rispettare delle regole minime del giornalismo serio. Quindi abbiamo anche molto apprezzato il senatore Conte, che lei sia venuto... Senatore Conte, che io sono il professor avvocato presidente Conte. Bene, questo è il primo punto. Secondo punto, ho parlato 30 secondi meno di travaglio, mi sto anche controllando i tempi. Secondo punto, lei deve avere la pazienza di farmi parlare. Sì. Secondo punto, il punto fondamentale di travaglio, sempre in questo punto fondamentale. Allora, qual è il punto? Mi scusi, Rezzi. C'è lei, primo punto, la risposta è il punto fondamentale di questa discussione. Barbaro o no? Io, guardi, voglio dare la parola a Massimo Giannini da circa 20 minuti. Chiede l'aiuto a casa. Massimo Giannini. Beh, è difficile replicare. Stura, che lavora. Scusi, non era quello che doveva stare zitto lei, scusi, maleducato, non era lei quello che doveva facere. Il regime di Bin Salman è quello che ha fatto a pezzi Jamal Khashoggi. Non è colpa mia. Cioè, non è che l'ho condannato io. Mentre si votava la legge Zan, lei era in Arabia Saudita. Giannini non sa assolutamente nulla, lo dimostra il fatto che nel Parlamento dell'Arabia Saudita la legge Zan potrebbe passare. Per la carità di patria non mi dica che l'Arabia Saudita è il nuovo ormai. Scusi, Gruber. Gruber, l'ha fatto lei, l'ha detto lei, mi fa parlare a me. Le faccio un disegnino, mi fa finire. Siccome Travaglio non sa assolutamente niente di Arabia Saudita, né io voglio parlare di Arabia Saudita. E dopo questa notizia, anche dei soldi da un taglia a gole, il mandante dell'omicidio Khashoggi. Che per me è la politica. È venuto fuori che lei si fa pagare dall'Arabia Saudita. Era già fuori Gruber. Lei ci ha fatto due trasmissioni in passato. No, non ci ho fatto due trasmissioni perché lei è molto importante, ma non così importante. Lei prende i soldi da chi vuole. Due minuti e due secondi di Marco Travaglio per dire quanto è disperato. No, un attimo, senza interrompere, senza, no, un attimo Renzi. Molto semplice. Renzi? Facciamo finire Travaglio, poi naturalmente lei avrà diritto di replica. Marco. Interrompevano. Vi faccio vedere un piccolo spottino ancora, state con noi. Comunque io il PD non lo voto. Sicuro, sicuro? Certo. Interrompevano anche, quindi la continuità prosegue. Comunque citavano quelle montagne, centinaia di montagne e ogni tanto io ho avuto una multa di centinaia di euro per avere rubato i sacchetti di plastica. Come se Travaglio rubasse i sacchetti di plastica. Allora dicevano pregiudicato e mi diceva che ero un pregiudicato. Io su il pregiudicato Marco Travaglio. Posso fare quando lei mi inviterà una trasmissione ad hoc. Se vogliamo fare una puntata, io vengo con tutte le sentenze e la facciamo. Lo sa quanto tempo abbiamo perso? E' ossessionato da me ragazzi. Questa non è l'arena. Allora, cosa pensava di, cioè non lo so. Ma Travaglio si arrabbia perché io gli ricordo che lui è un pregiudicato. Vede, facciamo l'esempio. Mi scusi, cosa intende? Le faccio un esempio. Pensa di stare in un acquario. Io e lei ci incontriamo all'autogrill. Questa cosa lo fa uscire di testa. Hanno iniziato a fare quello che chiamano booster. Hanno fatture, no, non parlo di booster. So che può sembrare matematica. Dopodiché io riparto e vado a destra e lei riparte e va a sinistra. Fa un frontale. Primo punto. In autogrill ce l'ho distrata. Però mi può dire che ci faceva. Ti può dire, è passato tempo. Ti posso dire una cosa. Le dico subito, ma le posso dire? Me lo dice. Però prima mi dica lei. Sì. Ma una mamma che la mattina si alza alle sette e porta i bambini a scuola, fa un frontale. Lei è un paraguru. No, no, non credo mai al pubblico. Ma i soldi arabi non la imbarazzano. No. Ma mi sembra che alla fine chi ne paga le conseguenze siamo quei ragazzi omosessuali, transessuali. Posso dirlo? Sì. Però sappiamo che è un paese dove la democrazia è molto slav. Io sto parlando dell'Italia. Io sto parlando dell'Italia. Non sapete neanche scherzare.